No, dicevo allora si è sbloccato, primo gol atteso, quarta giornata, peccato che non si è bastato. Sì, nel primo tempo abbiamo concesso molti spazi e tante ripartenze, non siamo stati compatti come dovevamo. Nel secondo tempo invece abbiamo creato più more di gioco, abbiamo giocato di più, abbiamo creato di più, ma anche delle pari importanti, è mancato magari l'ultimo passaggio, due regioni, però non è bastato. Purtroppo gli avversari sono stati più bravi a finalizzare le occasioni a loro presentate. Senti, l'ultimo passaggio dicevi è mancato, però quando è tratto a Chiaretti qualcosa di più si è visto in questo senso? Chiaretti è un treportista, quindi le sue giocate sono importanti. Sicuramente è un giocatore esperto che ci dà molte palle importanti, però purtroppo oggi è mancato qualcosa e per fortuna che siamo partita tra due giorni dove possiamo riscattarci al più presto. Il risultato non consideri giusto? Il primo tempo è stato così così, è stato abbastanza equilibrato, non c'è stato un dominio da parte di una delle due squadre. Il secondo tempo però abbiamo creato di più noi, io penso che potevamo portare a casa sicuramente un punto se non tre. La sconfitta secondo me non ci stanno.